dai nostri dati emerge che il 95 per cento del tempo che un cane trascorre fuori casa lo passa al guinzaglio è quindi molto importante investire del tempo per spiegargli come muoversi nel modo corretto senza tirare il camminare coordinando la sua andatura la nostra esplorare l'ambiente e socializzare con il resto del mondo senza tirare è frutto di un'intesa reciproca può essere creata fin da cucciolo attraverso una corretta comunicazione e non mediante l'uso della forza grazie a tutti grazie a tutti